Ciao sono Luca e in questo video vedremo come eseguire il cross jack. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate e la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche e la zona centrale del corpo a livello muscolare contratta per una buona postura. Estendi le braccia lateralmente abducendo l'articolazione delle spalle quindi inizia il movimento alternato incrociando in maniera coordinata le braccia completamente estese e le gambe. Mi raccomando stai molto attento a respirare regolarmente. Infine assicurati di avere un buon equilibrio e di eseguire l'esercizio per un numero di serie e di ripetizioni che rispetti il tuo grado di allenamento e di resistenza. Per quanto riguarda gli esercizi total body a corpo libero qui trovi gli altri video. Come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.